Musica Oggi non siamo presso una delle agenzie che animano l'affollato e ricco panorama milanese, ci troviamo a Torino e in particolare ci troviamo presso la nuova sede di Ideal Communication, agenzia nata ad opera di Stefano Capraro che ne è anche l'amministratore delegato. Dal 97 a oggi sono successe tantissime cose nel mondo della comunicazione, i modelli di business tradizionali sono in alcuni casi arresi a un'innovazione che li ha travolti completamente e proprio in questi anni invece l'agenzia è cresciuta in maniera considerevole. Prima di fare queste interviste, facciamo un po' il punto, Stefano parlava di una crescita dell'ultimo anno rispetto al 2013 addirittura del 70% circa, arrivando quindi a un fatturato di 4 milioni e mezzo. Ecco, questo è un contesto, dicevamo, in cui la competizione ormai totale con gli grandi network, con le medie, con le piccole, milanesi e non. Quindi un panorama competitivo particolarmente difficile, crescere con questi ritmi è quasi per molti aspetti impossibile. Invece così non lo è stato. In virtù di cosa questo è potuto accadere? Probabilmente è proprio la scelta di una sfida dell'impossibile, come tu hai accennato. In realtà in condizioni, in situazioni come queste, una struttura come la nostra che ha recuperato valori molto vecchi che sono quelli dei rapporti tra le persone, del credere nel lavoro di squadra, credere anche in alcuni dei valori che probabilmente le nostre famiglie ci hanno tramandato, applicate al mondo del lavoro, ha fatto sì che questo genere di applicazione abbia portato i risultati di cui noi stiamo parlando. Non sono risultati, non vogliamo vederli come risultati tanto eclatanti, sono però nel nostro piccolo l'affermazione di un modello in cui abbiamo sempre creduto, quello delle relazioni tra le persone. Mi ha molto colpito, preparando questa intervista, conoscere il tuo background e venire a sapere che tu hai fatto un'esperienza evidentemente molto importante che ti porti ancora dietro, nell'esercito. Tu hai fatto parte dell'artiglieria, sei stato paracadutista. Ecco, e su questa esperienza tu in fondo possiamo dire che hai impostato anche l'organizzazione dell'agenzia. O meglio, che cosa ti sei portato da un'esperienza militare dentro la guerra della comunicazione? Sì, allora, sì, in effetti ne abbiamo parlato di esattamente così. Questo tipo di esperienza mi ha formato e segnato sicuramente per tutto il resto dei miei giorni. È stata un'esperienza importantissima, formativa, che non dimenticherò e che ricordo tutti i giorni. Che cosa mi ha lasciato, credo di poter dire, innanzitutto come uomo e poi come uomo cerco di riversarlo, sono alcuni valori un po' generici. La grinta, la convinzione di farcela, ma soprattutto un atteggiamento quasi, permettimi di dire, cameratesco nell'approccio con quello che è il nostro team. Il nostro è un team che non lascerebbe mai qualcuno da solo, è un team che ama lavorare in squadra, è un team che ama raggiungere gli obiettivi in squadra e in questo senso esprime davvero un atteggiamento quasi cameratesco. Oggi sarebbe eccessivo dire che questo gruppo assomiglia un po' a una squadra d'assalto, però in alcuni casi ci è stato riconosciuto questo atteggiamento. Sono circa una quarantina gli addetti, no? Questa è una nuova sede, l'abbiamo visitata in lungo e in largo, una sede in un quartiere storico, antico, in un palazzo molto prestigioso dove è nata la Martina e Rossi, quindi il mito della Martina e Rossi, anche questo con la comunicazione ha molto a che fare, e soprattutto avete oggi un portafoglio che conta clienti anche molto importanti, alcuni anche internazionali, citiamo Continental, L'Oreal, Rex Benckiser, Kimberly Crack e anche Fiat. Quindi torniamo alla domanda, come è possibile che un'agenzia indipendente e giovane, perché queste sono le due caratteristiche, giovane e indipendente, sia riuscita a fare breccia presso clienti così importanti? Se dovessi e vorrei usare una battuta, mi piacerebbe dire, come hai accennato tu prima, che lo spirito in tutti i sensi di Martina e Rossi ha già ancora qui dentro. La verità è che la capacità di questo gruppo è stato quello di esprimere professionalità alte, elevate, in un atteggiamento però molto fresco, dritto al punto e comunque sempre con un grande contenuto creativo. Oggi la nostra è una struttura, esattamente come dicevi, che annovera un po' tutti i ruoli dell'agenzia con un atteggiamento e un organigramma però molto piatto, molto funzionale. Non abbiamo una struttura troppo sofisticata. La nostra capacità, probabilmente lo diciamo in tanti, è quella di stare molto vicino al cliente, esprimendo però in tempi molto brevi la qualità e il contenuto di progetti che in altri tempi si sviluppavano in processi molto più lunghi. La differenza rispetto ad altre agenzie di comunicazione è che voi partite da quella che si definiva l'area unconventional per poi essere riusciti a risalire la corrente e arrivare anche all'ATL dove c'è la ciccia. Quindi il vostro posizionamento è quello di un'agenzia che comunque rompe un po' gli schemi e da questo poi si acquisisce e si merita la fiducia magari di progetti di comunicazione più complessi. Sì, mi piace questo tuo percorso che hai fatto. Devo dire che inizialmente vorrei dire una cosa. Innanzitutto non abbiamo mai ritenuto che la ciccia stesse solo nella parte di ATL, ma abbiamo saputo trovare la ciccia e far emergere la ciccia anche in quei progetti che una volta venivano considerati collaterali. La nostra è esattamente un'agenzia che ha fatto questo percorso, al contrario. Diciamo che però non ha mai abbandonato un credo, non ha mai abbandonato un driver fondamentale che è stato quello di sapersi strutturare come un buon partner per i grandi clienti. La nostra è un'agenzia oggi che si interfaccia sostanzialmente con le espressioni country Italia delle global company e in questo senso riesce a dare l'impressione di sé di una struttura fresca e dinamica ma in grado di dialogare con player così importanti. Questo probabilmente ci ha dato l'opportunità di essere presi in considerazione dapprima per progetti un po' meno strategici e sempre di più invece con la capacità di diventare un partner davvero fondamentale in quei processi di comunicazione, in cui un buon posizionamento strategico, una buona idea creativa siano all'aspetto importante. Parliamo delle vostre aree di competenza, abbiamo detto advertising tradizionale, below the line, eventi e digital, no? E' questo un po' il mix? Il mix è questo, anche se la nostra è un'agenzia che probabilmente parte nell'approccio ai progetti proprio rompendo già questo tipo di schema. La parola che tutti abbiamo in bocca ormai da diversi anni è il concetto di cross, cross-medialità, cross-sistema e quindi di integrazione, in realtà è alla base dell'approccio metodologico di Ideal. Quindi noi sfuggiamo un po' alla categorizzazione di progetti all'interno di queste macro aree, ATL, BTL, digital ed eventi. Molto spesso Ideal è il partner ideale per sviluppare progetti che abbiano necessità di appiccicare elementi di comunicazione in tutti questi territori, su tutti questi muri. Parliamo dell'organizzazione interna, una società strutturata per team, no? Sì, a un certo punto quando la crescita ci ha fatto capire che la direzione sarebbe stata proprio quella di raggiungere una dimensione importante, abbiamo deciso, per non perdere il controllo di un pochino di tutte le nostre aree, di suddividerci in team di lavoro. Oggi il reparto creativo è suddiviso in team di lavoro, questo ci ha permesso di far crescere alcune figure, alcune professionalità, ci sono persone che qui dentro due anni fa erano semplicemente degli ottimi creativi, oggi sono degli ottimi team leader e in questo senso però la capacità dell'agenzia di continuare a ragionare come un'unica grande struttura ma suddivisa per team rende tutto più efficiente, rende tutto più dinamico. Ecco, delle 40 persone quanti sono creativi? La maggior parte? Siamo una di quelle agenzie che, come probabilmente l'orientamento moderno di tendenza, ha molta più parte riversata nella parte creativa e di applicazione ai progetti, quindi direi che sostanzialmente meno di un quinto è dedicato alla parte di contatto e invece quasi quattro quinti sono dedicati alla parte creativa. Quindi la creatività ha ancora un valore che viene riconosciuto dai clienti? La creatività intesa oggi come la capacità di azzeccare, di indovinare, di trovare, di scovare un'idea è quello che fa la differenza. L'agenzia è giovane, indipendente ma con una vocazione, un'ambizione anche internazionale. Possiamo anticipare un prossimo sbarco oltreoscena? Possiamo anticipare sicuramente che ormai da tempo stiamo coltivando questa idea che è un'idea che sostanzialmente ha due geni di composizione. Il primo è quello di inseguire un sogno. Per chi fa il nostro mestiere, il mondo anglosassio negli Stati Uniti, New York, ancora oggi sono assolutamente un faro di riferimento. Dall'altra invece è molto più concretamente per un orientamento di business la capacità, sapendo essere internazionale, di rispondere proprio a quelle esigenze di cui parlavamo prima che sono le esigenze dei grandi clienti, che sono le esigenze di sviluppare oggi progetti internazionali anche se dobbiamo parlare alla vicina di casa, all'angolo della strada. Quindi apertura probabilmente a New York? All'inizio dell'anno verrà costituita la nostra società americana, New York, che opererà tendenzialmente sul mercato americano con clienti americani, in alcuni casi tradizione ed effetto dei rapporti che noi abbiamo maturato in questi anni. Ecco, quindi non per portare i clienti italiani oltre l'oceano, ma per andarli a trovare lì. Una sfida, un triplo salto mortale senza rete. Sì, decisamente. Allora, è evidente che non abbiamo preclusioni in questo senso, però hai centrato l'obiettivo, non nasciamo con l'idea di prendere dei clienti italiani e traghettarli negli Stati Uniti, o non abbiamo comunque ricevuto questo tipo di mandato, abbiamo invece l'ambizione di diventare un player del mercato della comunicazione americana. Puoi dirci, descriverci, i due o tre casi che nell'ultimo periodo ti hanno fatto sentire particolarmente soddisfatto del lavoro che fai? Ci sono casi di rapporti particolari, tu ne hai citato qualcuno, la nostra nuova campagna per New Holland che riguarderà l'attività dell'Expo che realizziamo con un nostro partner, la possibilità di costruire un rapporto continuativo, in qualche modo un patto, un percorso di comunicazione con Continental, ma davvero ce ne sono tanti altri, tu ne hai citato alcuni, il nostro rapporto con il mondo di L'Oreal, con il mondo francese, dell'hotelleri francese di Accor, abbiamo tante relazioni che in questo anno, in questi mesi, in queste settimane, si vanno rinnovando, credo di poter citare anche il mondo di Arzana con cui ultimamente abbiamo realizzato anche un grosso evento per noi decisamente importante, quindi il dato più importante che emerge è quello in una vista un po' analitica di una serie diversa e molto diffusa di rapporti che stanno crescendo. Ecco, una domanda che faccio spesso alle agenzie, alle strutture che mi capita di intervistare anche per capire come si posizionano rispetto al futuro. Da qui a cinque anni qual è la tua visione di Ideal Communication? Credo che quello che succederà in questi prossimi anni sarà una costante crescita perché questo è l'obiettivo che ci siamo dati, una crescita che seguirà comunque gli obiettivi, le caratteristiche, il percorso che abbiamo già tracciato. Sostanzialmente vedo Ideal Communication crescere fino a una dimensione tale per cui rimarremo con la nostra identità, ma riuscendo a dialogare con qualsiasi tipo di cliente, grande o piccolo, in qualsiasi tipo di progetto e soprattutto in qualsiasi lingua. Ultimissima domanda davvero, il panorama competitivo è certamente più teso, più difficile rispetto al passato e voi vi trovate in gara con strutture di qualunque tipo, network internazionali, locali eccetera. Chi è oggi il competitor per voi più temibile? Noi stessi, sicuramente. Il nostro è un mercato che affrontiamo e la sfida che affrontiamo noi è una sfida in cui dobbiamo riuscire a credere in noi stessi. La capacità di credere in noi stessi può essere, lo dico per noi, potrebbe valere per chiunque altro, è la capacità di riuscire a reagire in questo mondo che davvero, comunque sappiamo, è così difficile. Oggi, credendo in noi stessi e avendo la fiducia che il nostro sistema, il nostro modello, fino ad oggi ha portato dei risultati, potremmo continuare a crescere. Devo dire che l'ipotesi di competere, anche con player un po' più grandi, è un po' un'idea che mi sia vicina a quella della competizione, ad esempio, nel combattimento boxistica. In fondo non importa prenderle o darle. L'importante è prenderle e darle. L'importante, secondo me, però, a fondo di questo, è la fiducia che hai nel team di persone con cui stai affrontando una sfida. Quindi, oggi ritengo che, in qualche modo, il nemico più grande che abbiamo siamo esattamente noi stessi. La nostra capacità di continuare, secondo un percorso che abbiamo tracciato, di rimanere fedeli a noi stessi, di continuare a crederci con la stessa intensità e di non sederci, ma di rimanere sempre affamati. Bene, con l'idea di comunicazione è tutto. Da Torino, per ADV Express TV, Salvatore Sagone.